Siamo in compagnia dell'onorevole Vaccaro, onorevole partiamo dalle dichiarazioni dell'ex sindaco di Salerno De Luca che ha un po' chiarito la sua posizione per quanto riguarda le sue ultime dichiarazioni? Le dichiarazioni di De Luca sono da applauso nel senso che lui fa delle battute facendo una campagna elettorale piena di battute, citazioni, di questo passo diventerà un campione di Made in Sud, ma non sono valutazioni politiche le sue, le critiche che ho espresso sono legate a fatti, non nemmeno a posizioni più o meno contestabili, eppure ce ne sono tante per quanto riguarda il modo di essere in politica dell'ex sindaco di Salerno. Mi limito a dire che un condannato che non ha nessuna certezza di poter ricoprire quell'incarico non deve essere candidato da un partito degno di questo nome. Tutto il resto sono battute, repliche, commenti, è un personaggio simpatico, ma è un personaggio che vedresti bene a Made in Sud, non sulla scena politica nazionale, è nemmeno, ma lì è scontato, perché che vinco che perda non potrà fare né il governatore né il capo dell'opposizione. Il capo dell'opposizione già non lo ha fatto quando l'altra volta ha perso, perché qui stiamo parlando di una replica, stiamo parlando di una personalità che sogna da un vent'anni almeno questa possibilità di impegno per una rivalità antica che aveva con Bassolino. Bassolino ha un suo coetaneo e ha finito di fare, grazie a Dio, secondo molti, il Presidente della Regione già un po' di tempo fa. Ha voluto tentare la carta nel 2010, è andata male, non è rimasto lì a fare il suo dovere, il suo lavoro, quello per cui aveva chiesto il voto, perché aveva precisato in campagna elettorale, resterò a Napoli anche in caso di sconfitta. Avevo un'intervista in cui si metteva in risalto questa sua contraddizione, legge ipocrisia, lui ha risposto no, io non potevo dire che è così perché sono scaramantico, portava male, ma così si deprime il sentimento di fiducia dei cittadini nei confronti della politica. Se ti chiedo il voto per andare lì a rappresentarti, in maggioranza se vinco, all'opposizione se perdo, resto lì e custodisco quel consenso per poi magari, la volta successiva, ripropormi, rafforzandolo, vincendo. Tutto questo non è successo, in più arriva una sentenza che ti condanna, non voglio parlare degli altri processi in corso perché sono cose che riguardano la magistratura, ma sono lì anche quelli. Perché insistere? Perché non aspettare che si chiariscono queste vicende e poi chiedere al partito, anche in ragione di meriti acquisiti più o meno discutibili, di avere una valorizzazione. È un modo di proporsi che ritengo inappropriato, nel caso della regione Campania dannoso, inutile, perché semmai a causa di quel fortissimo astensionismo che ci sarà, dovesse prevalere di un voto di 1.000, di 5.000, quello che sarà, all'esterno noi saremmo considerati un popolo che vota un condannato infischiandosene del buonsenso e dell'etica e dei principi che tutti diciamo di avere quando facciamo le scelte pubbliche. Questo secondo me è grave, noi stiamo correndo un rischio gravissimo. Quando viene poi un rappresentante della segretaria nazionale a dire che è lui il candidato perché chi l'ha votato sapeva in che condizioni era, di fatti esprime un giudizio anche nei confronti di chi ha partecipato e ha selezionato quella proposta. Ma in fondo voi forse vi assomigliate e questo secondo me è gravissimo. Dispiace che De Luca, avendo deciso finalmente di incrociare lo sguardo sulla mia polemica, la butti in cacciara, mandi il pallone in tribù, faccia fare due risate, così facendo si delegittima ulteriormente. Quindi è chiara anche la sua posizione per quel che riguarda l'immobilismo del PD nel candidare appunto De Luca anche se, come diceva lei, ha vinto le primarie. Sì, l'errore del PD nazionale non è di De Luca. Non possiamo dare la colpa a De Luca perché lui sta semplicemente coltivando una sua ambizione discutibile per come si presenta l'appuntamento, cioè con la storia di diserzione dalla responsabilità che il popolo gli aveva assegnato il popolo campano nel 2010, discutibile per la condizione di sospensione a cui va incontro che faccia lo sconfitto, che faccia il Presidente annunciato, ma non si potrà insediare, è uno che va avanti perché ce l'ha in testa, perché la vuole questa cosa. Ma diamo la colpa ai campani che l'hanno votato, tutti sapevano che aveva una condanna, tutti sanno che cos'è la Severino, quando poi lui dice no ma tanto io della Severino me ne sbatto, la considero una legge stupida. Ad una cena, ad una cena a casa mia, quando un personaggio politico difendeva questa tesi, ma in fondo è una legge sbagliata, un simpatico commensale eccepiva. Ma di questo passo, siccome io ritengo la tassa sul consorzio di bonifica una tassa sbagliata non la pago, perché se voi politici considerate una condanna in base alla legge, se vi piace o se non vi piace, allora anch'io giudico una tassa sul consorzio se mi piace o se non mi piace. Di questo passo casca tutto, la colpa non è dei cittadini che hanno votato, né di quelli che decideranno per appartenenza, per fatti culturali di votare il centro-sinistra, la colpa è del Partito Democratico ed è per questo che mi sono autosospeso prima del Partito Democratico e ne uscirò il giorno in cui sarà depositato il simbolo a fianco al nome di una persona che io ritengo incandidabile. Dopodiché ci saranno le elezioni dalle quali io mi terrò alla lontana, aspetterò la festa della Repubblica, cioè il 2 giugno, valuterò quello che è accaduto, farò una riunione con i miei amici e capiremo insieme se c'è uno spazio per lavorare ancora con il PD, non so se dentro il PD lo escluderei al momento, perché che De Luca vinca o perda resta la responsabilità del PD nell'aver portato fuori strada un intero partito o un'intera popolazione facendo passare questa proposta e non fermandola per tempo, quindi una responsabilità gravissima, solo come dire, se vi fosse la doppia condizione di una sconfitta da parte del popolo e una nota discusso e io potrei riconsiderare una disponibilità, siccome immagino che ci possa essere la sconfitta, ma non immagino che Renzi con la sua esuberanza che a volte sconfine nell'arroganza possa arrivare a tanto, di fatto significa che io in questo partito non ci potrò più stare perché il combinato disposto, la somma delle due condizioni, candidato e un incandidabile, venite meno anche a un dovere che l'intelligenza impone, quello di dire abbiamo sbagliato, probabilmente mi porterà a fare altro. Quindi anche alla luce delle sue ultime dichiarazioni c'è questa apertura verso l'attuale governatore della Campania che lei potrebbe appoggiare alle prossime elezioni? All'apertura verso Caldoro voglio usare una frase di Gino Nicolaes che ieri l'altro, in più occasioni devo dire, cerimonie pubbliche, dichiarazioni, interviste, ha detto che è stato per alcuni settori delle competenze regionali uno dei migliori governatori italiani, insieme a Bendola e insieme a pochi altri. Quando uno scienziato che ha fatto il ministro, che viene riconosciuto da tutti è una persona di grande equilibrio come Gino Nicolaes, ormai fuori dalla mischia perché è ultra settantenne, dichiara che Caldoro è stato uno dei migliori presidenti d'Italia per alcuni settori, in particolare lui si riferisce a quelli che gli sono cari, cioè la ricerca scientifica, all'innovazione tecnologica, ma che sono cari a lui, ma decisivi per l'economia, per lo sviluppo, per le giovani generazioni, allora viene introdotta una categoria di merito che va oltre i confini della politica, però ci sono delle pecche nella gestione Caldoro. La vicenda trasporti grida vendetta al cielo. Quando io mi sono candidato alla segreteria regionale del PD ho detto che in caso di elezione avrei chiesto di presentare 100.000 firme per il dimissionamento dell'assessore Vetrella. Caldoro ha fatto capire che Vetrella non sarà più in giunta, quindi fare politica anche che opponendosi, criticando, individuando i problemi, aiuta anche chi detiene il potere a guardarsi intorno e a capire che magari in squadra ha delle persone sbagliate. Caldoro sta facendo quindi una revisione critica della sua azione di governo, sicuramente manterrà le cose che hanno funzionato, sarà valutato dall'elettorato, non sono io in condizione, ho grande consapevolezza dei miei limiti e dei miei mezzi, a cambiare le sorti della vicenda regionale non può abbassare un deputato, tre o cinque. Ci sarà un sentimento popolare, quindi Caldoro se passerà sarà voluto dai cittadini campani, ci sarà un astensionismo fortissimo, io questo lo prevedo, perché tutti quelli che del PD in qualche modo hanno un'idea alta di un partito che deve aiutare il mezzogiorno a uscire dalle sue difficoltà, molto probabilmente non andranno a votare o voteranno vozza e ci sarà una tripartizione di una fascia, secondo me, importante del voto democratico, almeno un 30%, che avrà tre orientamenti distinti. L'astenzione in chiave prevalente, una parte andrà su vozza, le persone che vengono dalla storia di sinistra molto adulta, matura, marcata e una parte che andrà verso Caldoro che ricordiamo è un riformista, è un socialista che molti pensavano potesse essere anche il candidato del PD fino a un anno e mezzo fa per come amministra, per come dialoga, per come interpreta la politica. Sarà la gente a decidere, io ovviamente di fronte al risultato elettorale mi inchinerò come giusto che sia, ma non smetterò fino alla fine di dire che questo PD e Renzi al sud, nella regione più importante del sud, hanno preso una cantonata pazzesca che in ogni caso, in ogni caso ci porterà un danno, ci porterà un danno con l'affermazione, ci porterà un danno con la sconfitta. Quindi per me la soluzione oggi è stare lontano da questa campagna elettorale. Quindi anche le dichiarazioni dell'eurodeputato Paolucci entrano nella sua decisione di allontanarsi, come diceva lei, dal partito? Ho letto la nota di Paolucci, Paolucci è un personaggio simpatico, lui è uscito dal PD alla vigilia delle primarie, non partecipando alla consultazione il primo marzo. Io in quel caso mi sono spesi dal partito, dicendo guardate state sbagliando ma avete ancora tempo per correggere. Lui ha dichiarato esco, vado via, faccio altro, mi collego con ancofferrati al Parlamento europeo e vado avanti. Dopo credo 20 giorni è tornato indietro perché un appello di colleghi lo ha convinto. Ma si può fare questo, la gente che cosa deve pensare? Mica sono Paolucci io, se vado via dal PD posso considerare di fronte a fatti enormi la possibilità di fare marci indietro, ma fatti enormi che molto probabilmente non si possono verificare perché il danno è grave. Ma l'idea che mi faccio fare una lettera da 100 colleghi che mi dicono Guglielmo non fare così, ripensaci, il partito è casa nostra, non fare questo strappo, impara a ingoiare il rospo, magari tanto lui perde, ma non è un fatto personale, è l'assenza di responsabilità del partito nei confronti della gente del meridione. Io non sono Paolucci, Paolucci è entrato ed uscito dal PD con la stessa disinvoltura con la quale si entra e si esce nella memoria dei bei libri che abbiamo letto un tempo da un bordello. Sono fatto in un altro modo, ritengo l'ingresso e l'uscita in un partito è una roba troppo seria per far finta che si paga una marchetta e si fa quello che si vuole. Quindi la nota del PD regionale Campania che le chiede chiarezza proprio sulle sue idee, sulle sue decisioni, credo che lei abbia ampiamente risposto. Sì, anche lì non leggono, io non ho dubbi sul fatto che la causa di tutti i mali di questa vicenda non sia l'ambizione di Luca sfrenata, sconsiderata, eccessiva e secondo me dannosa. Nemmeno la latitanza di Renzi che può dalla sua dire io faccio il Presidente del Consiglio ma posso stare dietro ad una realtà così importante come la Campania, come si fa con un bambino piccolo, ci sono gli organismi regionali. La segreteria regionale è stata la realtà complice di questo desiderio sfrenato di De Luca di proporsi. È lì la responsabilità politica e quindi aggiungo una condizione ulteriore per dire quanto sia difficile per me valutare altro all'interno del PD. Sconfitta di De Luca, pubblica ammenda, commissariamento del Partito regionale. Se ci sono le tre condizioni io ripenso al PD come un luogo civile dove si può costruire una proposta a servizio dei cittadini. Senza queste tre condizioni è inutile stare nel PD, anzi diventa un silenzio complice se si sta dentro e ci si tura il naso. Diventa dannoso se collaborando su più fronti e trascurando i mali che si annidano in qualche modo si dà forza a una realtà politica che non è all'eltezza delle sue responsabilità. Questa è la mia opinione, sicuramente ci sarà una speculazione, perché lo ha fatto, che cosa ha contrattato con Tizio Caglia Sempronio. Ho detto chiaramente che se mai incontrerò Stefano Caldor, Salvatore Pozza, che pure mi cerca con insistenza, lo farò registrando, magari a questo punto potete chiedere a voi di farlo, l'incontro, il tenore della conversazione sarà chiaro, io rappresenterò le cose che mi stanno a cuore, dirò ma tu su questo, sul disinquinamento del Golfo di Napoli, che è una roba che non si sostiene più, perché danneggia l'economia delle famiglie che potrebbero andare al mare qui, anziché fare dei viaggi e fittare le case, sul trasporto pubblico, sulla formazione professionale, su tanti fallimenti della storia regionale, cosa pensi? Come mi convinci? E se convinci me, e come convinci i miei amici? Questo sarà l'incontro se mai ci sarà, se si porteranno fino alla telecamera che ci sta registrando. Diversamente vuol dire che c'è una possibilità che è quella di stare lontano, di astenersi e che probabilmente sarà la gran parte dell'elettorato del PD, quello di non essere costretti costretti a fare una scelta che è sbagliata, né essere costretti a coltivare un senso di colpa legato a un tradimento di schieramento. Queste sono le condizioni che terranno fuori tantissimi democratici dalle urne. Se ci saranno novità, ovvero se Caldoro convincerà me piuttosto che gli amici che si fidano e si affidano a me con questo tipo di modalità, allora forse qualcosa andrà in una direzione o forse qualcosa andrà in un'altra direzione, come alcune persone mi hanno detto, io sono di sinistra, se questa è la tua valutazione, a questo punto io voto vozza, c'è stato qualcuno detto questo. Non c'è da fare fantasia e se è possibile evitiamo i pettegolezzi, la situazione è molto più grave di quanto sembra. Amministrare bene la regione Campania significa decidere un pezzo del proprio destino per i prossimi anni, i fondi europei, l'ambiente, i trasporti, la sanità, cos'altro c'è nella nostra vita, cos'altro di importante insieme alla formazione professionale riguarda la vita e le famiglie? La salute, la possibilità di muoversi, la possibilità di stare in un ambiente sicuro, la possibilità di far crescere e formare meglio i nostri figli o di riqualificare gli adulti che vanno in difficoltà per il mondo del lavoro. In queste ore, in questi giorni e fino al 31 maggio si decide il futuro di molti di noi. Io aiuterò il dibattito pubblico in maniera molto ferma per elevare il tono dello scontro, quindi non risponderò mai alle battute di De Luca perché sono battute e lo qualificano come un battutista, uno con il quale la sera è bello andare a cena ma quando poi si fanno le 7 del mattino e il giorno dopo bisogna tenerlo lontano perché fino alle 7 di sera bisogna dare manforte alla soluzione dei problemi. Questo è il pensiero che mi accompagnerà fino al 31 maggio, spero che possa essere utile ad avere un dibattito un poco più puntuale e utile alla gente.